Ragazzi, buona serata a tutti. Allora, se c'è una cosa che io ho capito oggi è che gli interisti fanno la morale a noi quando non accettiamo gli sfottò dopo le nostre eliminazioni dalle Champions League, ma poi sono i primi a non accettarli e a insultare, a denigrare e quant'altro. Allora, intanto voglio rispondere al signor Fabio Bergomi che mi ha, tra virgolette, menzionato oggi dicendo che io non posso, comunque chi come me non può parlare e fare morali di sportività, che io tra l'altro, lezioni di sportività, io da quando mi sono messo su YouTube ho sempre detto io non mi sono messo su YouTube per essere sportivo. Io sono consapevole di stare in curo per il modo che ho di fare video e di attaccare le altre tifoserie. Io mi sono messo qua perché per difendere soprattutto la mia squadra, la mia società, la mia tifoseria, il mio allenatore e quant'altro, però quando c'è da dire qualcosa, e purtroppo qui poi gli interisti sono un po' gemelli con i napoletani, non capiscono. Ieri ho detto anche che il centrocampo dell'Inter per me al completo è più forte del centrocampo del Juventus al completo, tanto per dirgli che comunque poi prendono... Vabbè, comunque lui mi ha detto, mi ha detto, tra virgolette, che fino a quando io non porterò un interista sul mio canale a fare video con lui, non potrò dare lezioni di sportività. Prima di tutto io ho amici interisti napoletani con i quali parlo tranquillamente di calcio, ci sfottiamo, ma ragazzi, io non mi sento obbligato di portare uno di loro qui solo per dimostrare qualcosa a chi. Cioè loro sanno benissimo che quando partiamo di calcio sono tranquillamente obiettivo, come lo sono loro, ci sfottiamo, le battute ci stanno, ma io qui su YouTube non devo dimostrare nulla a nessuno. Cioè chi mi conosce sa che tipo di tifoso sono al di fuori della telecamera qui, ok? Del cellulare e di YouTube. Quindi io, anche perché dicendo certe cose, sembra che tu faccia certe interviste, tra virgolette, interviste, sul canale proprio per dimostrare che sei sportivo. Ma, ma, preferisco magari uno come me che si autodefinisce antisportivo, no antisportivo, non sportivo, ok? Però poi quando c'è da parlare sportivamente lo fa, piuttosto che uno che si professa sportivissimo, e poi quando c'è da tirare frecciatine lo fa e dimostra molta antisportività. Perché ieri quando ha perso l'Inter e tu hai tirato fuori il discorso dell'Ajax, hai dimostrato antisportività, punto. Non mi interessa il resto, ok? Bene. Quindi io non devo dimostrare nulla a nessuno, chi mi conosce sa come sono al di fuori di YouTube. E quindi non mi interessa il resto. Poi, parlando un attimo degli sfottori, allora, io seguo pochi interisti su YouTube, estimo pochi interisti, io seguo e stimo ogni tanto interisti tedesco. Diego Rigorio, poi chi altro? Nessun altro, io ogni tanto, anche se abbiamo avuto delle diatribe, mi guardo anche qualche video di Luca Nerazzurro. Poi mi guardo un po' tanti, cioè, altri video di altri YouTubers, non solo Juventus, ma anche interisti, romanisti, napoletani, milanisti, eccetera. Però, apprezzo molto di più questi due, barra tre, anche se Luca, ripeto, ogni tanto abbiamo avuto delle diatribe, però vedo che comunque sta sulle sue e, per carità, poi giustamente difende l'Inter quando c'è da farlo. Però vedo altri, vedo altri che fanno i balli, ok, fanno i balletti quando la Juventus esce dalla Champions League e quando noi ci incazziamo, ok, con questi sfottò, questo personaggio che conoscete tutti, dice che non sappiamo prendere uno sfottò, non sappiamo accettare lo sfottò, dobbiamo farci curare tutti, poi c'è gente che sotto il suo canale, io non lo farei mai, cioè non andrei mai sotto il canale di qualcuno a sfotterlo per una sconfitta, non è nel mio essere, ma questo sono io. Nel caso faccio un video sul mio canale. Vabbè, comunque, alla gente che ha sfottuto l'Inter e lui dopo l'invenzione di ieri, lui ha risposto in maniera molto violenta, insultando, denigrando, cioè, poi non potete fare la morale a noi, non potete fare la morale a noi, perché poi siete i primi a non accettare lo sfottò. Siete i primi, poi io Diego ad esempio lo stimo moltissimo, però ha fatto anche lui un video stamattina, poi vabbè, lui giustamente ci si difende per carità al gioco delle parti, però nel quale, diciamo, screditava tutti i punti, no, gli juventini che dicono che avete perso contro dei ragazzini, poi loro sono i primi a tirare fuori, sì, ma voi con l'Ajax, eh, ma non è noi con l'Ajax, siete voi con l'Ajax che avete tirato fuori il discorso dei ragazzini che comunque giocavano titolari da anni, insomma, in prime squadre e quant'altro. Qui abbiamo giocatori, ok, 17enni, che hanno giocato soprattutto in campionati giovanili col Barcellona, però, a parte questo, il fatto è che voi siete stati, tra virgolette, i primi, poi, a tirare fuori il discorso abbiamo perso contro i ragazzini, quei ragazzini che comunque hanno eliminato anche il Real Madrid, bisogna anche dire questo, e poi siete i primi a prendervela se uno di dice la stessa cosa con i ragazzini del Barcellona, vedete, questo è un problema vostro, non sapete essere anche un po' coerenti, però, vabbè, a parte questo, non voglio, però stai fatto ragazzi, che purtroppo ho visto tanti, tanti, purtroppo, tanti, troppi interisti che non stanno allo sfottò, e poi sono i primi, ripeto, che alla prossima eliminazione della Juventus, ok, magari agli ottavi a febbraio o marzo, per carità, potrà capitare, che poi sono i primi, sono i primi perché lo fanno sempre, ogni anno, no, perché usciamo, perché perdiamo, almeno noi comunque passiamo il girone, ce la giochiamo, io ho criticato anche sotto questo aspetto molto la società, dato che io difendo, difendo quando c'è da difendere l'ambiente Juventus, ma critico quando c'è da criticare, tant'è che molti juventini mi vengono contro, perché dicono che non sono juventino perché critico troppo, questo sono io, io non guardo in faccia nessuno, né dalla parte anti-juventina, né dalla parte juventina, bene, e comunque, il fatto è che appunto questi qui, poi, da anni ci sfottono, da anni ci sfottono, noi che li sfottiamo, che poi guardate i video, a parte nati per vincere, ma guardate in generale i video degli juventini che hanno sfottuto gli interisti, e guardate i video degli interisti, quando usciamo noi dalla Champions, come li fanno, cioè, c'è una differenza abissale, da una parte ce lo sfottò la battuta, e magari ci scappa un pagliazzo, un prescritto, ad esempio, Damon mangia le ali di pane, io ho fatto qualche battutina, così, vabbè, dall'altra parte c'è gente che balla, che veramente festeggia come se avesse vinto la Champions League, lui, anche perché quando ci dicono il tripletta è la vostra ossessione, no, la nostra ossessione magari fosse la Champions League, ma non è anche quello, perché, ripeto, l'ossessione per la maggior parte della nostra tifoseria rimane lo scudetto, magari fosse la Champions League comunque, qualora dovessimo vincere sulla Champions League e non vincere il campionato Coppa Italia, a me andrebbe benissimo l'ossessione del tripletta è vostro, perché ogni anno, e soprattutto in quei due anni lì che avete, che siamo andati in finale a Berlino e a Cardiff voi avete sudato sette camicie, cioè, ve lo dico io, anzi, lo sapete benissimo voi in quella settimana che andava dall'ultima partita di campionato, alla finale Champions League, eravate lì che vi cagavate d'osso più di noi, perché avevate paura di vedere, insomma, la Juventus fare quel famigerato tripletta che non è nessun trofeo, di fatto il tripletta non è un trofeo comunque, a parte questo, mi fa piacere e lo dico adesso, l'ho voluto fare adesso, non quando usciamo poi, perché magari poi mi dicono, è troppo facile lo faccio adesso, per farvelo notare adesso, che non siete assolutamente coerenti, prima di tutto e non accettate lo sfottò perché poi, quando riceverete degli insulti al prossimo sfottò della nostra eliminazione della Champions League dovete stare zitti, ok? Buon, detto questo, questo è l'ultimo video di oggi, ci vedremo con il post partita di stasera sempre comunque fino a fine Forza Juventus e ci vediamo ovviamente stasera Forza Juventus